salve a tutti amici e amiche di youtube come vedete sono già in clima derby e infatti oggi parliamo di derby parliamo di un argomento scottante in vista del derby un argomento che divide i tifosi del milan ormai da un po di tempo parleremo di alessio romagnoli allora alessio romagnoli capitano del milan uno dei giocatori diciamo uno dei veterani di questa squadra uno di quelli che da più tempo in questa squadra ultimamente non gode più delle simpatie di tutto il tifo rosso nero ora fino a tre anni fa se qualcuno criticava romagnoli il tifo il tifo milanista rispondeva in maniera compatta rispedendo al mittente ogni singola critica oggi non è più così molti tifosi sono delusi perché si aspettavano una crescita diversa molti tifosi sono delusi perché non lo ritengono un capitano all'altezza molti tifosi sono delusi perché ritengono che le sue prestazioni soprattutto nelle partite importanti non siano all'altezza della situa della situazione gli imputano alcune partite giocate molto male contro avversari importanti come lukaku di bala e quindi prima della partita più importante di questo campionato prima di uno dei derby prima del derby più importante degli ultimi otto nove anni dicono ma non sarà il caso di panchinarlo per far giocare tomori allora vi do due risposte la prima risposta è una risposta che tiene conto della realtà di quello che succederà e insomma non è un mio parere ecco perché so già che adesso arriveranno tutti gli analfabeti funzionali a insultarmi quello che vi sto dando non è un mio parere è quello che succederà basandomi sulla realtà romagnoli non farà mai panchina nel derby pioli non panchina era mai romagnoli nel derby quindi il caso che questa gente si mette il cuore in pace questa è la risposta realistica che posso darvi perché 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 il capitano perché panchinare il capitano prima di uno dei prima del derby più importante significherebbe fondamentalmente affossarlo dal punto di vista mentale dal punto di vista delle gerarchie eccetera eccetera voi direte ma noi godremmo se romagnoli venisse affossato bene parere vostro non è una cosa che succederà capito ecco perché in una squadra di calcio piaccio non piaccia ci sono delle gerarchie funziona così e non ci possiamo fare niente ripeto inutile che venite a rompere il cazzo a me non è un mio parere vi sto dicendo quello che succederà chiaro bene tolta un attimo la realtà e parlando di fantasia cosa farei io allora io credo che la cosa più giusta sia affidarsi a chier e romagnoli ora potete insultarmi perché questo è il mio parere ora perché io mi affiderei a chier e romagnoli semplicemente perché all'andata hanno giocato chier e romagnoli e il milano il derby l'ha vinto io sono uno di quei pochi folli che ha ancora un minimo di fiducia in romagnoli se devo essere sincero non non lo ritengo un top mondiale non lo ritengo uno dei difensori più forti del mondo non lo ritengo sicuramente a livelli di ramos o di van dyck però fino a quando c'è romagnoli gioca semplicemente quello perché se tu metti romagnoli in panchina nel derby no e il derby va male voi non avete idea di quello che succede non avete la benché minima idea spogliatoio distrutto stagione che nel 90 per cento dei casi va a puttane perché perché ripeto nello spogliatoio romagnoli è uno dei giocatori più importanti e uno dei giocatori più seguiti e udite udite è uno dei punti di riferimento pieto piaccia non piaccia ma noi non siamo nello spogliatoio del milan noi ci limitiamo a giudicare il giocatore per le prestazioni che fa e quindi automaticamente diciamo romagnoli fa cagare eccetera eccetera va bene però nello spogliatoio del milan tutti hanno una considerazione altissima di romagnoli ed è una considerazione mi perdonerete più importante di quella che possiamo avere noi perché la considerazione che i compagni hanno di lui è data dal lavoro quotidiano da 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 come romagnoli si pone in allenamento da come romagnoli si pone in partita ecco la considerazione è data da questo noi certe dinamiche non le possiamo conoscere quindi automaticamente ripeto mettere in panchina romagnoli priverebbe il milan anche di una sorta di punto di riferimento in vista del derby e pioli essendo una persona ragionevole potete stare certi che non lo farà oltretutto quelli che vogliono avere tomori in campo possono stare tranquilli perché kier non giocherà mai 90 minuti perché non li regge visto la sua situazione momentanea fisica quindi tomori in un modo o nell'altro al derby scenderà in campo questo che significa non vedremo mai tomori fra i titolari assolutamente no a parte che tomori è un investimento anche futuro quindi per quanto ne sappiamo il bilan può aver preso tomori anche per averlo dopo e utilizzarlo al momento non dico come alternativa ma come centrale da far ruotare quindi insomma perché già so e lo vedi già hanno bocciato non l'hanno bocciato è una gestione una gestione che un allenatore sta avendo semplicemente quello poi ripeto la gente d'accordo non è d'accordo romagnoli deve essere panchinato perché qua e qua fanno il ragionamento anche tecnico perché tomori ha dimostrato di poter marcare molto bene lukaku ragazzi sì è vero quello tomori indubbiamente nel derby di coppa e di coppa italia ha dimostrato di poter marcare molto bene lukaku però per quanto ne sappiamo noi allo stato attuale non è detto che pioli voglia impostare la difesa in quel modo magari per il tipo di difesa che pioli vuole avere nel 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 derby sono più adatti chi è romagnoli magari pioli vuole attuare una strategia più conservativa e meno aggressiva in difesa e quindi automaticamente chi è romagnoli diventano più importanti non lo sappiamo non lo sappiamo quindi automaticamente vi dico la gente si incazza perché romagnoli se ne deve andare a fare in culo basta romagnoli ha rotto il cazzo un giocatore indegno va benissimo ripeto la gente liberissima di pensare quello che vuole io ripeto non reputo fino a questo momento negativa la sua stagione romagnoli ha fatto una una stagione da sufficienza ha fatto delle partite buone alcune partite meno buone è partito male all'inizio si è ripreso perché poi alla fine nella metà del campionato l'unica partita che ha sbagliato secondo me è stata quella con la juve in questo momento in difficoltà un po come tutti come tutta la squadra però ripeto aspetterei non sono così tragico vedo chi vuole tomori sicuramente alle sue alle sue ragioni ma ripeto le dinamiche di squadra rendono un'esclusione di romagnoli al derby impossibile quindi mi dispiace fatevene una ragione e speriamo che romagnoli vi smentisca a questo punto ragazzi io volevo semplicemente dirvi questo vi ringrazio per aver visto questo video e vi saluto